Mario è stato tranquillissimo, non ha espresso niente, non ha detto una parola, ha continuato a fare il suo lavoro e quindi tutto quello che ci siamo detti su questa cosa l'ha rispettato alla grande. Adesso lo sappiamo che sono comunque cose difficili da accettare, soprattutto per le altre persone che non c'entrano niente, ma cercheremo di fare qualcosa in più, qualche appello, qualche cosa per fare in modo che tutto questo non succeda. Qua si parla che siamo nel 2014 e c'è ancora in tutta Italia questa storia dei neri, dei napoletani, dei cinesi, dei gialli, verdi, rossi, quindi bisogna un po' migliorare su questa cosa e per fortuna Mario è stato tranquillissimo.